L'attaccante della nazionale Lorenzo Insigne e Genoveffa Tarone si sono sposati il 31 dicembre 2012. Entrambi originari della provincia di Napoli, si sono conosciuti da giovanissimi grazie ad alcuni amici in comune. La coppia ha due figli, Carmine e Christian. Archiviato lo scherzo della Iene. Insigne sembra essere meno geloso della moglie, che attualmente ha rieferto di nuovo il suo profilo Instagram. Il campione della nazionale di calcio dell'Italia, Lorenzo Insigne è sposato da più di otto anni con Genoveffa Tarone. La coppia ha due figli, Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. La loro relazione va a gonfievele su Instagram, non passa compleanno di geni. Senza che l'attaccante pubblichi un messaggio di auguri pubblico alla compagna, tu mi completi. Sei semplicemente quello che ho sempre sognato. Buon compleanno amore mio. Ti amo, questi alcuni dei messaggi per Genoveffa. Lorenzo e Genoveffa si sono sposati col rito civile il 31 dicembre 2012. Fuori al comune di Frattaminore erano presenti oltre mille persone tra curiosi e fan. I festeggiamenti sono poi prosegui in forma privata a Caivano, dove, tra gli invitati, ai calciatori del Napoli, si sono aggiunti anche alcuni comici di Made in Sud, programma del quale Lorenzo è grande fan. Genoveffa e Lorenzo si conoscono da quando erano ragazzini, anche perché Tarone, che è tre anni più piccola del compagno, è nata il 24 settembre del 1993 a Frattaminore. A due passi da Frattamaggiore, il paese natale del marito. Tra i due la relazione è scattata durante l'adolescenza. Grazie a un incontro organizzato da alcuni amici in comune. Il campione avrebbe corteggiato a lungo Tarone, all'epoca commessa in un negozio di articoli per la cura dei capelli, così come da lei confessato in un'intervista a Calcio Napoli 24, Lorenzo mi veniva a trovare qualche volta al negozio dove lavoravo. Magale Otta fu una gita con amici in comune. Lorenzo e Geni hanno due figli, Carmine, nato nel 2013, e che ha lo stesso nome del padre del calciatore, e Cristian. Nato nel 2015. Entrambi cresciuti con amore e coltivando la passione per il pallone. Nella speranza forse che un giorno anche loro possano intraprendere la carriera da calciatore. Di sicuro è così per il fratello di Lorenzo, Roberto Insigne, attaccante della squadra campana del Benevento. Un'occasione di uno scherzo organizzato dalle Iene, la moglie di Insigne ha parlato della gelosia del marito. Stando a quanto scritto sul sito del programma di Italia 1, Lorenzo avrebbe costretto Geni a cancellarsi da Facebook e Instagram. Ragion per cui la moglie decise di organizzare uno scherzo che lo mettesse di fronte a quello che reputava il suo difetto più grande. La gelosia. Lo scherzo riuscì è dato che Geni ha riaperto il suo profilo Instagram. Sembra proprio che il magnifico, con l'intervento di Sebastian Gazzarrini, abbia ridimensionato di molto la sua gelosia. Su Instagram la donna, che si chiama Geni Darone Insigne, pubblica molti scatti con i figli e il marito.